Oggi vi porto alla scoperta di un film ascrivibile al genere del melodramma d'ambientazione risorgimentale, un genere che aveva un grande successo negli anni cinquanta. In principio furono Il bacio di una morta, La mano della morta, La sepolta viva, questi sono i titoli altisonanti di alcuni film campioni d'incasso alla fine degli anni quaranta, dei film ascrivibili al genere del melodramma d'ambientazione risorgimentale, diretti da registi come Guido Brignone e Carlo Campogagliani. Questi film erano tratti da dei romanzi molto noti della scrittrice Carolina Invernizio, che veniva soprannominata in maniera dispregiativa la casalinga di Voguer, un'espressione che poi diventerà in uso nell'italiano corrette. I suoi romanzi venivano definiti anche romanzi d'appendice, perché venivano pubblicati a puntate nelle ultime pagine delle riviste di maggior successo dell'epoca. Le caratteristiche principali sia dei romanzi che anche delle trasposizioni cinematografiche, che ebbero un grande successo tra la fine degli anni quaranta e la metà degli anni cinquanta, erano le ambientazioni comuni a tutti i film e a tutti i romanzi, ovvero quelli dell'epoca risorgimentale, quando si tentava di costruire l'unità d'Italia, e poi ritornavano degli elementi che venivano definiti a tinte fosche, cioè all'interno delle trame c'erano omicidi, sparizioni, vendette, scambi di persona, e poi naturalmente una grande storia d'amore molto contrastata, che era proprio al centro dell'azione. E proprio la storia d'amore portava al pubblico in sala naturalmente qualche lacrima, non a caso questi film vengono definiti anche strappalacrime, ed è molto interessante notare come il pianto aveva questo scopo di sciogliere un po' tutte le tensioni che le persone avevano accumulate. Del resto siamo dopo la seconda guerra mondiale e la situazione in Italia non era certamente facile. Un giglio infranto di Giorgio Walter Chilli può essere proprio ascrivibile a questo genere, del genere dello strappalacrime e del melodramma appunto d'ambientazione risorgimentale. Il film è ispirato a un dramma teatrale che si intitolava I Congiurati di Belfiore, a sua volta ispirati a documenti processuali del regno del Lombardo Veneto. Il film è ambientato nel 1853, la protagonista si chiama Amelia, è un'attrice teatrale che tra i suoi spasimanti ha un consigliere austriaco che si chiama Zimmer e scopre ben presto che quest'ultimo è stato il mandante dell'uccisione del padre, che era stato uno dei famosi martiri di Belfiore. Quest'ultimi erano dei patrioti che avevano vissuto nel Mantovano tra il 1851 e il 1855 che avevano deciso di ribellarsi alla tirannia degli austriaci ed erano stati poi incarcerati e impiccati grazie al generale Radeschi. Il percorso di vendetta della giovane Amelia si scontra con la giovine Italia, al quale decide di aderire grazie anche ai conti Andrea ed Eleonora. Quest'ultimi due protagonisti sono interpretati da Alberto Farnese e Millie Vitale, che costituivano una delle coppie divistiche del cinema melodrammatico più famose. Questa coppia era stata costruita sulla scia del grande successo della più famosa coppia Amedeo Nazare e Yvonne Samson, protagonisti di tanti film melodrammatici diretti da Raffaello Matarazzo. La protagonista femminile è l'attrice francese Hélène Rémy, che in Italia tra gli anni 50 e gli anni 60 interpreta numerosi film sempre ascrivibili al genere del melodramma, come ad esempio il film Ergastolo del 1952 oppure Ripudiata del 1954, sempre diretto dal regista Giorgio Walter Chilli. E sia Ripudiata che anche Ungiglio Infranto ricevono il visto di censura nell'estate del 1955 ed entrambi i film sono ambientati appunto in epoca risorgimentale, sono di vari e propri melodrammi. Chilli è stato un regista che è sempre passato un po' inosservato, non ha mai saputo esprimere appieno la sua arte cinematografica. Lui aveva frequentato il centro sperimentale di cinematografia e arriva alla regia nel 1941 con un film misterioso di cui si conosce veramente molto poco che è leggenda di primavera. Non si sa nemmeno se fosse un cortometraggio o un lungometraggio e se realmente poi è uscito al cinema. Si sa soltanto da alcune foto di scena e dalle cronache apparse sulla rivista film appunto nel 1941 che era una pellicola a soggetto mitologico. Il film però che ha un grandissimo successo nell'immediato dopoguerra è I Dieci Comandamenti che esce nell'agosto del 1945. È una pellicola organizzata proprio dal regista per far lavorare nella capitale sia le maestranze e tutta anche una serie di attori che non voleva aderire appunto alla Repubblica di Salò e dunque al fascismo dell'ultima ora che aveva portato la cinematografia nel nord Italia e soprattutto a Venezia. È un film ad episodi appunto basato sui Dieci Comandamenti interpretato da Massimo Girotti, Mariella Lotti, Rossano Brazzo solo per fare i nomi più famosi e la lavorazione durò dal gennaio del 1944 fino a quasi l'estate del 1945. Il regista poi nel dopoguerra diresse alcuni cortometraggi documentari e ritornò alla regia di lungometraggi soltanto nel 1952 con il film La prigioniera della torre di fuoco interpretato da Elisa Cegani e una caratteristica ricorrente della filmografia del regista è proprio quella di aver fatto dei film quasi tutti ambientati in epoche passate. Anche la sua ultima pellicola che si intitola Caterina Sforza la Leonessa di Romagna del 1959 ha un'ambientazione nel passato. Una piccola nota curiosa nella filmografia del regista è un film antologico dedicato all'attore comico siciliano Angelo Musco che si intitola C'era una volta Angelo Musco del 1953 dove raggruppa alcuni spezzoni significativi della filmografia appunto del comico siciliano e tra l'altro la voce narrante della pellicola era di Rossano Brazzi. Per rimanere informato sugli ultimi caricamenti del canale classici del cinema italiano ricordati di iscriverti e di attivare le notifiche così non ti perderai più i film in premier e i nuovi video di cinema italiano in pillole. Grazie e buona visione!